Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, ma soprattutto buon anno! Questo è il primo video dell'anno, quindi insomma c'è una certa responsabilità, ok? Perché bisogna iniziare l'anno con il piede giusto. Io indosso ancora la mia affidata felpa di Natale perché ancora fino al 6 gennaio il periodo natalizio non è finito e quindi io la porto ancora con me. Ho deciso di iniziare l'anno dandovi alcuni consigli. Infatti oggi parliamo di 5 semplicissime abitudini che hanno cambiato la mia vita. Quindi suggerisco anche a voi di inserire nella vostra routine quotidiana queste piccolissime abitudini perché secondo me possono fare davvero la differenza. E sto parlando di svegliarsi alle 5 del mattino, fare subito una doccia fredda, fare yoga, almeno un'ora di meditazione. Ok dai sto scherzando, ovviamente non è così. Non sono queste le abitudini che ho, anche se sicuramente possono essere d'aiuto per tante persone, ma io purtroppo non ce la farei proprio. Quindi vi parlo di 5 abitudini che sono realmente fattibili, insomma inseribili nella nostra quotidianità, anche per chi come me deve alzarsi per andare al lavoro o ha figli o una vita un po' indaffarata che non gli permette di dedicare troppo tempo a un'abitudine e rischiando poi di abbandonarla quasi subito. Prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirò un mio nuovo video. E se non lo fate già seguitemi anche su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Preparare ogni sera il necessario per la mattina. Ho l'abitudine da tanti anni, addirittura da quando ero le superiori, di prepararmi i vestiti ogni sera, quelli che poi indosserò il giorno successivo. Questo chiaramente mi permette di risparmiare tanto tempo la mattina perché tra il sonno e la fretta di prepararmi per poi svegliare la bambina, andare al lavoro, eccetera, eccetera, io non devo perdere tempo a scegliere quali vestiti indosserò. C'è un canino, amore, gli faceva caldo al camino. Comunque dicevo, appunto, scegliere i vestiti prima di andare a letto è qualcosa che mi fa risparmiare tanto tempo la mattina, ma dato che questa è una cosa che in realtà molti già fanno, ne aggiungo un'altra perché io mi preparo anche tutto il necessario per la colazione già la sera prima. Se come me, chiaramente, non prendete solo un caffè al volo, ma vi fermate un attimo la mattina a prendere, non lo so, latte e biscotti, latte e cereali, oppure il tè, eccetera, eccetera, questo potrebbe esservi d'aiuto. Io, ad esempio, metto proprio la tovaglietta, la tazza, il cucchiaio, un bicchiere che poi riempirò d'acqua la mattina dopo, i cereali se prendo quelli o il pacco di biscotti, oppure la bustina di tè se in quel periodo bevo tè e posiziono già tutto sul tavolo. In questo modo, la mattina quando mi alzo, posso semplicemente accendere il pentolino con l'acqua per il tè o il latte e nel frattempo magari preparo la colazione da dare a Katia per la scuola oppure quello che mi porto io in ufficio per la colazione di metà mattina. Quindi mi permette anche in questo caso di guadagnare quei 3-4 minuti che secondo me nelle nostre mattine frenetiche fanno la differenza. Quindi, insomma, provare per credere tutto quello che è possibile preparare la sera prima è meglio farlo perché ci svegliamo e non dobbiamo subito prendere delle decisioni o fare delle scelte che magari dovute alla fretta ci potrebbero portare a dimenticare qualcosa. Io ad esempio preparo anche la borsa che devo portare al lavoro con l'agenda, con non so, tutto quello che mi devo portare e che posso già preparare la sera prima. Non guardare il cellulare prima di dormire e appena svegli. Anche questa è un'abitudine che porto avanti ormai da tantissimo tempo e che fa, vi giuro, la differenza. Infatti ogni sera io, il maritino e la bimba guardiamo qualcosa in televisione, un film, una serie tv, insomma qualsiasi cosa. Poi ci prepariamo per andare a letto. Da quel momento non prendiamo più in mano il cellulare, io e il maritino, chiaramente Katia non ce l'ha. Questo perché in realtà è proprio stato dimostrato che guardare il telefono prima di addormentarsi in realtà non concilia il sonno perché anzi stimola soprattutto la luce del cellulare delle cellule nel nostro cervello che continuano a lavorare e ci fanno rimanere svegli. Quindi insomma questa è una cosa che io e il maritino non facciamo mai. Andiamo a letto e leggiamo di solito. Quindi siamo due lettori per fortuna, quindi ci mettiamo nel letto e una mezz'oretta, volte anche più, leggiamo il nostro libro. Questo in realtà concilia il sonno, tanto che a un certo punto gli occhi si chiudono, chiudiamo il libro e dormiamo. Lo stesso vale per la mattina. Sto molto attenta a non usare il cellulare appena sveglia. Questo perché quando ci svegliamo il nostro corpo dovrebbe avere un risveglio molto lento. Per essere al top dovrebbe essere un risveglio proprio insieme alla natura. Quindi addirittura ci dovremmo svegliare con la luce del sole. Capisco che chiaramente questo non è sempre possibile, però ecco inondare gli occhi e il cervello di questa luce fortissima che è quella del cellulare non fa bene per il nostro risveglio, per un risveglio ottimale. Quindi io la mattina quando sono alla sveglia mi alzo e vado in bagno. Lì mi preparo senza mai guardare il telefono, quindi mi vesto, mi lavo, eccetera eccetera. Poi vado in cucina, preparo la colazione per me e per la bambina e solo quando mi siedo per fare colazione allora guardo il telefono, magari le mail o qualcosa su Instagram. Quindi comunque a quel punto è già passato diverso tempo da quando mi sono svegliata e sono completamente sveglia. Questa è una cosa che oltre a far bene alla nostra salute, in realtà ci fa risparmiare tanto tempo perché la mattina alzarsi e prendere il telefono e cominciare a guardare le notifiche ci porta via un sacco di tempo. Non ce ne rendiamo conto e sono passati 20 minuti così. Visto che io la mattina ho voglia di dormire, non ho voglia di alzarmi mezz'ora prima perché voglio guardare il telefono, ecco quindi la soluzione. Semplicemente non toccarlo fino a quando non siamo completamente svegli, già pronti e quindi magari quei 5 minuti della colazione posso dare un'occhiata a quello che è arrivato sul mio cellulare. Se ci vogliono meno di 2 minuti, fallo. Ecco questo consiglio mi ha veramente svoltato la vita. Allora non ci rendiamo conto di quante mini azioni veramente che richiederebbero 2 minuti di tempo noi non facciamo per pegrizia e si accumulano fino a diventare qualcosa di enorme. Pensiamo ad esempio a qualcosa da rimettere in ordine in cucina e alla fine ci ritroviamo con tante cose insomma fuori da dover essere riordinate oppure ai giochi che i bambini tirano fuori o al mobile dove appoggiamo tutto quello che troviamo in giro e che non abbiamo voglia di rimettere nel suo posto. Insomma davvero se ci fate caso nella vostra giornata sono tantissime quelle mini azioni che non facciamo perché sinceramente per quanto mi riguarda di solito è pigrizia ma che davvero richiederebbero pochissimo tempo. Un esempio lampante sono le email, ok? Rispondere a una mail di solito ci vogliono davvero 2 minuti ma se non lo facciamo subito si accumulano e un giorno ce ne troviamo 20 a cui dobbiamo rispondere. Se avessimo risposto subito ci saremmo risparmiati tempo e stress. Ecco perché questa regola va sempre tenuta a mente in qualsiasi cosa sia per le piccole cose di casa ma anche quando siamo fuori. Se ci vuole meno di 2 minuti falla subito, non rimandare, vedrai che mi ringrazierai. Meditare. Ovviamente ti aspettavi questo consiglio da me e questa è una delle abitudini più belle che io abbia inserito nella mia vita. La chiamo abitudine perché è una cosa che faccio spesso anche se non la faccio tutti i giorni ed è proprio qui che voglio arrivare. Il bello della meditazione è che è completamente personalizzabile. Si può meditare da seduti o da sdraiati, persino camminando. Si può meditare per un'ora o anche per soli 5 minuti. Si può meditare in silenzio concentrandoci sul respiro oppure si può immaginare delle bellissime situazioni, quindi delle meditazioni con visualizzazioni. Si può meditare da soli oppure con una voce guida. Si può meditare tutti i giorni oppure ogni tanto. Sicuramente almeno due volte a settimana, altrimenti non è una vera abitudine. Vi garantisco però che una volta che l'avrete inserita nella vostra vita non tornerete più indietro. La meditazione è stata l'attività che più ha ridato valore alla mia vita, ha alzato il livello di qualità della mia vita enormemente. Quindi prendete un manuale oppure seguite un corso di meditazione. Insomma cercate di capire quali sono le basi e poi iniziate. Trovate la soluzione o comunque la formula giusta per voi. Tenere un diario. Non so se avete la passione per la scrittura oppure no, ma in realtà questo non conta davvero. Perché quando si ha un diario non è importante la punteggiatura, la grammatica o neppure il senso compiuto di quello che stiamo scrivendo. Quello che conta in un diario personale è cercare di capirsi un po' di più, raccontarsi per capirsi. In realtà molto spesso viene da pensare che non ne abbiamo bisogno semplicemente perché ci conosciamo già. Cioè se io sto attraversando un periodo difficile o ho alcuni dubbi o sto affrontando un ostacolo, una prova nella mia vita, non ho di certo bisogno di scriverlo per capirla. Sono io, la sto vivendo io. Sbagliato. In realtà non è così. Io mi sono resa conto che nonostante io creda di conoscermi appieno, non lo faccio mai completamente fino a che non ho buttato giù quello che penso. Perché cominciare a scrivere porta i pensieri a agganciarsi l'uno all'altro. E in questo modo si crea qualcosa che all'inizio non avevate pensato potesse esistere. C'è un motivo per cui molti psicologi danno proprio come terapia la scrittura. Ed è lo stesso motivo per cui anche i libri di crescita personale invitano tantissimo a rispondere per scritto addirittura proprio con carta e penna a delle domande su noi stessi che ci fanno insomma capire qualcosa di più. Questo perché veramente la scrittura è una terapia e tenere un diario è qualcosa di talmente semplice che davvero può diventare un'abitudine con grande facilità. Anche qui non c'è bisogno di scriverlo tutti i giorni, però magari potrebbe diventare l'abitudine di una volta a settimana e quindi buttare giù tutti i nostri pensieri ci permette di vederli dall'esterno in maniera anche molto più chiara rispetto a quando li avevamo qui e capire come trovare una soluzione o come agire di conseguenza a quei pensieri. Io tengo un diario da quando veramente ero piccola e ci sono dei periodi in cui non l'ho scritto anche in lunghi periodi chiaramente perché non sono perfetta però è proprio per questo che ve lo consiglio perché quando io ho ripreso a tenere un diario e a scrivere ho sentito veramente la mia vita cambiare quindi questo significa che funziona davvero. Quindi se non ce l'avete comprate un bel quaderno qualcosa che vi ispiri, ecco vi dia voglia di aprirlo e scriverci e anche una bella penna se avete voglia e cominciate a tenere il vostro diario. Bene ragazzi il video finisce qui io spero che vi sia piaciuto e insomma che abbiate trovato utili questi consigli fatemi sapere quali sono le vostre abitudini quotidiane che vi hanno in qualche modo aiutati ad avere una vita migliore perché possono essere utili anche per me magari e spero con questo video di aver dato un buon inizio anno a tutti voi. allora noi ci vediamo prestissimo in un altro video ciao 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 ciao